Le bioplastiche in realtà sono un settore ormai molto ampio e quindi molto difficile comprimere tutto in 30 minuti. Quello che è importante sottolineare è che le bioplastiche non sono qualcosa di sostanzialmente diverso da quello che abbiamo sentito oggi, quindi tutta la cultura, l'enorme cultura che è venuta benissimo fuori da questo convegno che l'Italia ha in questo settore è assolutamente tutta spendibile nel campo delle bioplastiche, in più le bioplastiche hanno questa caratteristica di creare un settore di contaminazione tra culture completamente diverse. Infatti, come vedremo poi nel corso della presentazione, biotecnologie, chimica, nuovi tipi di monomeri, feedstock di tipo completamente diverso, si collegano tra di loro in una possibilità enorme di sviluppi dal punto di vista della ricerca e quindi quello che vedremo oggi è soltanto l'inizio di un percorso che credo potrà darci molte soddisfazioni dal punto di vista non soltanto scientifico ma anche, credo, di ripartenza di alcuni settori industriali a livello europeo. Almeno questa è la mia grande convinzione. Le bioplastiche, innanzitutto la mia presentazione sarà su un po' di nomenclatura, quindi cosa sono le bioplastiche, cosa intendiamo oggi con questo termine, alcuni esempi di applicazioni, ovviamente non esaustive, soltanto alcuni casi per capire appunto le diversità di opportunità di questi prodotti, l'esperienza italiana nel settore delle biorefinerie integrate per le bioplastiche, quindi considerare anche le bioplastiche come opportunità di sviluppo di nuove filiere, di nuovi sistemi di produzione e il potenziale delle bioplastiche e dell'economia di sistema e quindi non considerare le bioplastiche semplicemente come dei materiali ma come delle grandi opportunità di ridisegno di sistema e quindi facendo tesoro delle caratteristiche, delle problematiche che abbiamo anche sentito per le plastiche tradizionali, cerchiamo di ingegnerizzare questi materiali con degli elementi, dei vantaggi in più già in partenza, guardando all'origine dei prodotti, guardando ai processi per produrre questi prodotti ma anche ai fine vita in modo tale da utilizzare le bioplastiche di diversa natura soltanto in quei casi in cui veramente possano portare un contributo di sistema veramente forte. Quindi non guardiamo le bioplastiche come semplicemente dalla parte dei materiali ma guardiamole a livello modulistico, guardando proprio l'interazione con la società e con quelle che possono essere le opportunità di ricerca non soltanto nel campo meramente dei materiali ma anche dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico e così via. Quindi nuovi ridisegni di sistema. Che cosa sono le bioplastiche? Con il termine bioplastiche noi mettiamo insieme due concetti in realtà che sono l'origine, la materia prima rinnovabile, quindi le plastiche cosiddette da fonte rinnovabile e invece l'aspetto del fine vita quando parliamo di plastiche biodegradabili. Cioè quando usiamo quindi il termine bioplastiche in realtà facciamo un po' come con i biolubrificanti, dovremmo immaginare delle plastiche che sono sia da fonte rinnovabile che biodegradabili, se invece vogliamo indicare delle plastiche che sono da fonte rinnovabile dovremmo chiamarle plastiche da fonte rinnovabile e invece se vogliamo guardare al fine vita dei prodotti dobbiamo parlare di plastiche biodegradabili. Quando si parla di plastiche biodegradabili del fine vita abbiamo a che vedere con l'origine e quindi una plastica biodegradabile può essere rinnovabile o non rinnovabile. Questi quindi sono i concetti base di quando utilizziamo i termini bioplastiche. Bene, le plastiche da fonte rinnovabile possono essere di due grandi famiglie, possono essere dei polimeri standard con semplicemente dei monomeri sostituiti da fonte rinnovabile, quindi possiamo fare dell'etilene da fonte rinnovabile o meno e quindi possiamo fare un polietilene che è da fonte petrolchimica o da fonte rinnovabile. Chiaramente non ci aspettiamo delle caratteristiche differenti dal punto di vista delle performance di questo tipo di prodotti, tanto meno negli aspetti del fine vita. Quando invece andiamo a considerare l'altra classe di polimeri che ovviamente ci permettono di spaziare maggiormente dal punto di vista delle diverse caratteristiche, andiamo a guardare prodotti che possono essere prodotti a performance, che hanno quindi, possono introdurre caratteristiche molto differenziate tra di loro, che possono essere quella che maggiormente abbiamo studiato agli inizi da cui siamo partiti, che è la biodegradabilità, la compostabilità dei prodotti in diversi ambienti e oppure le caratteristiche di respirabilità, di permeabilità, la reattività. Quando andiamo a considerare in materia prima da fonte rinnovabile abbiamo delle funzionalità molto più elevate e quindi dobbiamo ripensare anche i sistemi di sintesi e così via, oppure le proprietariologiche di questi polimeri. Quindi possiamo avere una gamma amplissima di possibilità. L'esempio del primo tipo possono essere i polimeri tipo PET, appunto il PET in cui già esistono dei prodotti in commercio di questo tipo, in cui il PET può essere da fonte petrolifera come normalmente è, oppure con dell'etilene glicol da fonte rinnovabile che viene ottenuto da etanolo da fonte rinnovabile con un sistema che permette di produrre etilene e poi da etilene con il normale processo chimico. E' chiaro che questa tipologia di prodotti possono aver senso soltanto in casi particolari e quindi ci dobbiamo domandare se effettivamente un processo che è energeticamente non particolarmente favorevole è quello di trasformare etanolo in etilene sia vantaggioso oppure no e quindi non solo, ma è vero che noi utilizziamo energie rinnovabili nel caso di etanolo fatto in Brasile, però la quantità di energia per fare questo processo è molto elevata. Quindi se noi non consideriamo, l'energia rinnovabile la consideriamo zero, è un conto, ma se invece la andiamo a considerare, cioè quanta energia veramente utilizziamo, questo è un processo che invece ha bisogno, è molto energivolo. Quindi è molto importante capire bene quali sono le materie prime, quali sono le alternative, cioè se io ho delle materie prime di partenza, degli zuccheri, delle melasse di scarto, cosa ci faccio? Ci faccio questo tipo di prodotto per fare etanolo e poi andare a fare etilene oppure ci faccio altri prodotti con una resa maggiore? Quindi diciamo questo per capire che non è così facile parlare di impatti ambientali o di analisi di impatto ambientale per un prodotto rinnovabile se non lo guardiamo in un contesto molto più ampio che non semplicemente il chilo di prodotto. Ecco, la possibilità di misurare la percentuale di rinnovabile in un polimero da fonte rinnovabile è facile, è una tecnica molto semplice, è un metodo già standardizzato e quindi si va a misurare il carbonio rinnovabile che è caratterizzato dall'avere un contenuto del C14 elevato, mentre nella parte delle risorse petrolchimiche il carbonio è un carbonio, il carbonio vecchio è il C12, quindi da questa differenza si può misurare il contenuto di carbonio rinnovabile nei vari tipi di polimeri. Importante però è tener conto che la presenza di sostanza rinnovabile all'interno di una plastica, di una bioplastica, non è necessariamente un elemento per dire che quel tipo di prodotto è a minore impatto ambientale. Quindi l'aspetto dell'impatto, cioè non c'è un collegamento diretto tra rinnovabilità e basso impatto ambientale, e quindi va verificato, va dimostrato questo tipo di vantaggio e non solo, ma dobbiamo sempre fare attenzione appunto a non rimanere sui prodotti ma a rimanere sui sistemi, quindi non è tanto importante il prodotto in se stesso ma come lo uso, in quale contesto e quindi diciamo l'analisi di sistema diventa estremamente importante tanto più perché abbiamo nuovi prodotti e quindi non essendoci un'industria già esistente è importantissimo, ma un esercizio veramente importante è quello di avere una visione a 360 gradi per riuscire a fare delle cose che siano veramente un'opportunità per lo sviluppo e non invece la creazione di problemi che poi verificheremo su campo perché non abbiamo fatto bene un'analisi di sistema agli inizi. L'altra cosa importante appunto, come dicevo, i prodotti biobased non sono necessariamente a basso impatto ambientale perché dobbiamo verificare i tipi di culture che utilizziamo per fare le materie prime che ci servono a fare questi prodotti, dobbiamo vedere che processi utilizziamo, le performance di questi prodotti, la densità e così via. Quindi sono tanti gli aspetti e invece la valutazione di impatto ambientale che deve essere con la logica credol, direi credol to credol, non tanto credol to grave, sono aspetti importanti e un altro aspetto che va valutato sono gli effetti secondari dell'uso di questa tipologia di prodotti. Faccio un esempio per far capire questo concetto. Se noi consideriamo il catering, quindi tutta la parte nella ristorazione collettiva dei prodotti osioggetta, se noi abbiamo dei prodotti che sono anche rinnovabili ma non biodegradabili, il fatto che questi prodotti rappresentino una percentuale di inquinante per l'organico e quindi non permettano un trattamento dell'organico che sia, diciamo, nei flussi normali, quindi abbiamo per mille pasti circa 150 tonnellate di organico e circa 15 di plastica, se io ho delle plastiche anche rinnovabili ma non biodegradabili in quel tipo di uso, è evidente che l'impatto ambientale che ho è molto elevato per effetto dell'organico che non riesco a trattare in modo corretto. Quindi è inutile che faccia l'analisina della mia posatina se poi non ho invece fatto, non sono andata a capire profondamente questo tipo di aspetto. Oppure un altro settore che non entra niente appunto con la biodegradabilità che è il concetto della rolling resistance, se ho dei prodotti rinnovabili che hanno un effetto sul scorrimento, appunto sulla resistenza al rotolamento di una gomma, è evidente che l'effetto dell'analisi di impatto ambientale del mio biofiller che magari è sicuramente a meno impatto rispetto a silice o carbon black, in realtà è un effetto limitatissimo rispetto alla positività di aver ridotto la resistenza al rotolamento in un settore che è responsabile del 12% delle emissioni di CO2. Quindi questo è il tipo di logica, di esercizio che dobbiamo fare. Ecco, quando è che i prodotti devono essere biodegradabili? La biodegradabilità non è una caratteristica che deve essere utilizzata ovunque, in qualsiasi applicazione. La biodegradabilità diventa una caratteristica importante in specifici casi dove il riciclo è difficile o non economico, dove la probabilità, usiamo il termine probabilità, la probabilità di riciclo è molto bassa, dove la biodegradabilità può essere una caratteristica funzionale, faccio l'esempio della pacciamatura agricola. La pacciamatura agricola è diversa dalle serre, dai film da serra. I film da serra sono facilmente riciclabili, quindi va benissimo farli riciclarli, mentre la pacciamatura a terra è un problema, anzi è un blocco al riciclo. Quindi il fatto di poter fare film biodegradabili che sono veramente riassorbibili nel suolo è un elemento estremamente importante. Oppure nei casi in cui c'è un reale alto rischio di dispersione nell'ambiente. L'esempio classico è lo shopper. Le analisi riportate anche nel libro verde dell'Unione Europea, ma gli studi fatti da, non mi ricordo il nome dell'associazione, ma anche dalla Toscana, dalla Liguria, dalla Sardegna, eccetera, nel mar Mediterraneo c'è circa il 73% di inquinanti plastici che sono lo shopper. Lo shopper che è diffuso ovunque perché è leggero, eccetera. Quindi in questo caso il rischio ambientale è elevato e quindi il poter avere dei prodotti che biodegradino e che siano riutilizzabili, per esempio per la raccolta dell'umido, mi permette, uno, di diminuire la rischiosità di dispersione nell'ambiente in generale. L'altro, il fatto di avere prodotti che biodegradino nell'ambiente marino, ci permette di evitare di avere poi i debris, le particelle che sono a livello della concentrazione del plankton nel mar Mediterraneo, che è un problema significativo, ed è un problema significativo non solo per il Mediterraneo. Allora, l'altro aspetto è invece laddove i prodotti plastici sono inquinanti del rifiuto organico. L'esempio del catering è un esempio abbastanza calzante, ma se noi andiamo a considerare le merceologiche del rifiuto organico in Italia, vediamo che la presenza di film sottili che vengono utilizzati per contatto con alimenti sono un problema significativo. Nel momento in cui andiamo a toccare le bottiglie, la biodegradabilità è un aspetto poco rilevante, perché è un settore dove la bottiglia è un prodotto pulito, ha la maggiore percentuale di riciclabilità rispetto a tutti i tipi di applicazioni che abbiamo sul nostro territorio, e quindi è inutile parlare di biodegradabilità in quel caso specifico. Tanto più che una bottiglia messa nel rifiuto organico diventa un problema significativo. Quindi il concetto è biodegradabilità là dove serve, non perché dobbiamo vendere di più prodotto, ma perché dobbiamo impostare un nuovo sistema che sia veramente sostenibile dal punto di vista globale. Perché è così importante il rifiuto organico? Il rifiuto organico è così importante perché questa è la composizione del rifiuto organico nazionale europea. Noi abbiamo una frazione di organico che va dal 25 al 35%, che si aggiunge al verde che è tra il 10 e il 15%, quindi vedete che è una frazione che va vicino tra il 40 e il 50%, che poi si è aggiunto alla parte di carta e cartone quello che non viene riciclato, quindi quello sporco di cibo, la percentuale di frazione compostabile, biodegradabile e compostabile del rifiuto totale è molto significativa. Questo rifiuto organico, in quanto viene ancora messo in Europa in grandissima quantità in discarica, e questo è un problema enorme dal punto di vista economico per i cittadini, perché gestire una discarica piena di organico è un problema gigantesco, mentre il rifiuto organico è una materia prima veramente importante, tanto più nella logica della bioeconomia, quando questo feedstock può diventare un feedstock per altri tipi di sostanze chimiche, e metano e soprattutto compost di qualità contro la desertificazione dei suoli. Quindi approcciare il problema non dalla parte soltanto delle plastiche, ma guardando la totalità del rifiuto e andare a capire quali sono le soluzioni per evitare che la frazione più importante del rifiuto, più critica del rifiuto, è anche quella che sta permettendo all'Italia di raggiungere la soglia del 65% di raccolta differenziata, perché ricordiamo che il rifiuto organico è diventato dal 2006 al 2010, è passato da 6, qualcosa a milioni di tonnellate a 4,2 milioni, perché l'Italia nella parte del rifiuto organico ha fatto una grandissima rivoluzione e oggi tra l'altro ha anche un compost di qualità, quindi c'è un sistema dietro che sta funzionando e su cui le bioplastiche biodegradabili possono dare un contributo di miglioramento a questo sistema e di spinta ulteriore a questo tipo di sviluppo. Ecco, chiaramente ho parlato di compostaggio, perché il compostaggio è il sistema che sul territorio europeo è più diffuso, che poi va combinato con la nerobiosi, che sta diventando anche lei un sistema di trattamento piuttosto significativo. Il tentativo che noi stiamo cercando di fare è quello di ragionare su delle bioplastiche che siano in grado di affrontare tutti i diversi sistemi di smaltimento e di trattamento oppure che affrontino anche il problema del rischio di dispersione nell'ambiente. Quindi nel nostro caso, almeno, il tentativo è quello di sviluppare delle bioplastiche che si adattino alla capacità di biodegradare nei diversi ambienti, nel suolo, perché per la pacciamatura agricola, nell'acqua, nell'ambiente marino, perché per evitare il rischio di dispersione, nella nerobiosi, perché è importante il processo di smaltimento in Italia, e ovviamente il compost, perché questo ci permette di avere un ottimo prodotto che stocca carbonio nel suolo, ma anche guardare all'aspetto del riciclo, del riciclo, diciamo, meccanico, sia per evitare che questi prodotti possano diventare pericolosi all'interno dei sistemi di trattamento e di riciclo che sono in atto e quindi non devono andare a danneggiare ciò che sta funzionando, e dall'altra parte la possibilità di produrre energia, ovviamente nel caso in cui vengano inceneriti con altri tipi di prodotti. Ecco, devo dire che in questo momento abbiamo prodotti che hanno tutte queste caratteristiche in alcune applicazioni. Le bioplastiche, come vengono prodotte, esistono moltissimi modi di produzione, cioè quello naturale, il più semplice, quello, i polimeri, da carboidrati e da, diciamo, acidi grassi, da oli, che sono ovviamente il modo più semplice per produrre polimeri. In questo caso è possibile modificare chimicamente, in modo limitato, questo tipo di polimeri per trasformarli e dargli comportamenti plastici. Ovviamente hanno una serie di limitazioni, quindi sono prodotti a comportamento che servono per cose specifiche e limitate. Esistono poi sistemi ormai ben sviluppati di sintesi biotecnologica, i cosiddetti polimeri microbici. L'esempio più significativo è sicuramente quello dei polidrossi alcanoati. Polidrossi alcanoati, il cui capostipite, polidrossi butirrato, è stato, diciamo, trovato e identificato addirittura nel 1929, mi sembra, ed è un modo per stoccare energia per i microrganismi. Questo tipo di sistema è stato sviluppato ampiamente negli ultimi 30 anni, quindi siamo in grado, attraverso la fermentazione, partendo da microrganismi diversi, per esempio da rastoniautrofa, è possibile fare polidrossi alcanoati con catene ecopolimeri con sostituenti a catena corta, mentre se andiamo a lavorare su pseudomonasole e vorans, è possibile inserire nella catena principale del polidrossi alcanoati delle catene lunghe che permettono di modificare sostanzialmente i comportamenti di questi polimeri. Poi vedremo alcune proprietà di questi prodotti. Quindi, diciamo, esiste una gamma molto ampia, tuttavia sono prodotti molto complessi, molto costosi, perché comunque hanno bisogno di grande quantità di feedstock, perché la resa è bassa, per esempio, se pensiamo al mais, abbiamo bisogno di 4,3 kg di mais per fare un chilo di polidrossi alcanoati, quindi un costo significativo e un impatto significativo in termini di terra, eccetera. Esiste poi il sistema classico di sintesi chimica a partire da monomeri che a loro volta possono essere ottenuti in modi completamente diversi, sia da biotecnologie, vedi l'acido lattico, per esempio, l'acido succinico, oppure il butandiolo rinnovabile, oppure normali monomeri da fonte petrolchimica che possono essere sintetizzati per dare strutture chimiche che hanno la caratteristica di essere biodegradabili. E qui citiamo, cito il polilattico, ovviamente, che è il caso più importante anche dal punto di vista industriale, poli L-lattico, quindi il con... e poi vedremo il poli L-lattico che cosa può fare in combinazione con il D-lattico, il poli caprolattoni, i poliammidi e poi i polimeri alifatici aromatici, il poli butilen succinato, quindi sono moltissime le categorie di polimeri da fonte rinnovabile e non rinnovabile che sono biodegradabili e che sono stati ampiamente studiati. Alcuni di questi sono ormai sul mercato e hanno ormai raggiunto delle caratteristiche molto interessanti. Qui vedete degli esempi di feedstock rinnovabili diversi e di prodotti che sono direttamente derivati senza grandi modifiche e quindi nei cellulosici abbiamo prodotti storici come la cellofan, i derivati della cellulosa, quindi l'acetato di cellulosa, l'acetato butirrato di cellulosa, ma tutta una serie di polimeri graffati e soprattutto tutta la parte invece dei prodotti da legno che sfruttano le lignine che stanno diventando una interessante area di sviluppo e dove ancora la ricerca ha moltissimo da fare. Le fibre naturali, che anche questi i compositi da fibre naturali sono noti da moltissimo tempo e gli sviluppi stanno aumentando. Gli amidi, gli amidi di cui noi ci siamo occupati moltissimo, qui negli amidi gli sviluppi sono molti, nel campo dell'amido termoplastico, delle schiume d'amido, degli amidi graffati in blending reattivo e soprattutto gli amidi complessati e le nanoparticelle d'amido che ci hanno permesso, almeno come Novamont, di sviluppare i primi prodotti e ancora oggi abbiamo i prodotti più importanti proprio ottenuti attraverso questo tipo di processo. I polisaccaridi di altra natura, non mi soffermo su questo, i grassi che possono darci, oltre a biolubrificanti e biodiesel, anche i polioli poliuretani, plastificanti per gli additivi di processo per i polimeri e così via. E poi la classe delle proteine dove tutto sommato ancora oggi non ci sono degli enormi sviluppi in questa direzione ma sicuramente sono materiali interessanti anche se estremamente delicati e complessi. Bene, con questi tipi di prodotti attraverso, come dicevo prima, processi di tipo biotecnologico o chimico è possibile produrre, per esempio, in questo momento esistono degli impianti in costruzione che riguardano l'acido succinico, l'1,4-butandiolo, esistono degli impianti già esistenti, cioè un impianto esistente di 1,3-propandiolo, un grande impianto di acido polilattico e di acido lattico che poi permette di fare acido polilattico, una serie di poliesteri ampi, i polimeri microbici, che, devo dire, esiste una capacità produttiva significativa, ma non sono poi mai riusciti ad arrivare realmente ad applicazioni industriali significative. Processi chimici, invece, dove, per esempio, l'etilenglicol e altri macromeri degli zuccheri, l'isosorbide, da sorbitolo, il furan di carbossilico, e così via. Quindi, diciamo che c'è un'ampiezza di sviluppo enorme e per ognuno di questi settori di materiali si possono applicare tutte le tecniche e gli sviluppi che abbiamo visto precedentemente. Ecco, vi diamo alcuni esempi e alcune caratteristiche di questi prodotti. Allora, qui vedete una sintesi molto sintetica per far vedere che tra i polimeri più noti, cioè i polidrossi alcanoati, il polilattico, i polibutilenti reftalati alcanoati e il polibutilenti succinati. Ecco, in queste categorie di prodotti abbiamo prodotti che presentano punti di fusione che arrivano fino ai 180 gradi e delle caratteristiche meccaniche in cui abbiamo prodotti estremamente rigidi. Il polidrossi butirato arriva a 4.000 di megapascal di modulo e invece il polilattico a circa 3.000. e poi invece abbiamo polimeri che hanno delle caratteristiche che sono quasi lastomeriche e che permettono di entrare in settori ad alta tenacità con caratteristiche completamente diverse tra di loro. Quindi le loro combinazioni ci permettono di avere una serie ampia di possibilità che oggi permettono di produrre prodotti sul mercato che stanno incominciando ad entrare in settori di dimensione che sono non più delle piccole nicchie. Ecco, nel campo dell'acido polilattico abbiamo detto che il prodotto industriale per eccellenza è l'acido L che viene dall'L lattide con un po' di mesolattide per modificare poi i punti di fusione del polimero e quindi rendere questo polimero diciamo più facilmente trasformabile in quanto il polilattide al 100% ha poi un problema anche di stabilità e di rigidità. Tuttavia è possibile produrre anche il polilattico e la cosa interessante è che la combinazione di poli L lattico con piccole quantità di poli di lattico permettono invece di cambiare completamente il comportamento di questo polimero il quale ha una serie di limitazioni quando è usato da solo e in pratica il vantaggio più grande è la sua trasparenza prodotto bellissimo più trasparente anche del PET quindi questa è la caratteristica diciamo vincente del polilattico tuttavia ha un problema molto forte una TG che è intorno ai 50 e 60 gradi e questo rende tutto molto complesso quando si va fuori dal settore delle fibre e quindi crea una serie di problemi sia nell'handling dei pellets sia nel trasporto per esempio dei prodotti finiti ha una resistenza all'impatto che non è lavatissima e aspetti e problemi dal punto di vista della barriera ai gas bene è possibile combinare il PL lattico con il PD lattico mettendo piccole quantità di PD lattico creando uno stereocomplesso e questo stereocomplesso rende quel polimero dell'acido polilattico con una fusione che va dai 205 ai 245 gradi e cambia completamente le performance di questo tipo di polimeri faccio altri esempi che invece vanno nel campo degli amidi in particolare l'amido complessato perché in realtà oggi ci sta dando grandi soddisfazioni perché ancora ci sono grossi sviluppi in quest'area e poi faccio un esempio invece di un progetto molto nuovo per noi che è un progetto appena terminato come progetto europeo si chiama Rebio Foam che riguarda amido espanso stampato per quanto riguarda il biofiller per le gomme il processo che noi abbiamo sviluppato negli anni è stato quello di utilizzare amidi che possono essere di diversa natura e quindi i granuli la struttura granulare degli amidi che viene distrutta e viene trasformato questo prodotto in amido destrutturato l'amido destrutturato che ha molecole di amilosio corte e invece delle macromolecole di molti milioni di peso molecolare che sono invece di centinaia di milioni di peso molecolare che è l'amilopectina entrambi perfettamente amorfizzati e diciamo interpenetrati tra di loro creando un tessuto omogeneo vengono poi complessati con molecole che permettono di creare delle strutture sovramolecolari in cui nel caso del biofiller abbiamo ciò che si chiama droplet like structure in cui abbiamo un nucleo di amilopectina schermato quindi da un complesso fatto da amilosio e le molecole complessanti qui vedete il modo per destrutturare l'amido vedete un'analisi perché gli amidi a differenza dei polimeri tradizionali non sono soltanto cristallini semicristallini ma hanno una struttura globulare che condiziona enormemente tutto il comportamento degli amidi quindi qui vedete con due tecniche con il microscopio in luce polarizzata la classica struttura cristallina dei granuli e qui vedete in contrasto di fase gli stessi granuli e la cosa interessante è che nel normali processi di gelatinizzazione gli amidi in presenza di acqua i granuli di amido si rigonfiano si spaccano si separa l'amilosio dall'amilopectina in presenza di acqua e si ha un sistema eterogeneo di distribuzione di molecole all'interno di questo sistema ecco la cosa interessante e vedete che in effetti in contrasto di fase continuiamo a vedere le strutture residue granulari rigonfiate mentre in microscopia in luce polarizzata non esiste più nessun tipo di cristallinità questo prodotto è assolutamente inutilizzabile dal punto di vista come plastica ma è totalmente non cristallino l'amido destrutturato invece ha una tessitura perfettamente omogenea quindi perde completamente la separazione delle varie diciamo non esiste più la struttura granulare e contemporaneamente non esiste più la struttura cristallina ecco quando si raggiunge questo tipo di situazione è possibile complessare con molecole complessanti per raggiungere che possono essere complessi possono essere studiati attraverso raggi X e IR derivata seconda dove si evidenziano questi tipi di complessi e è possibile ottenere delle nanoparticelle che possono essere appunto utilizzate in vari settori qui vedete uno studio fatto in collaborazione con Universalis in cui vedete l'effetto dell'aggiunta del biofiller all'interno di gomme e vedete come ci sono due effetti importanti quello di miglioramento della processabilità con un abbattimento della viscosità e invece dall'altra parte un aumento enorme della resistenza un abbattimento enorme della resistenza al rotolamento che permette appunto di ridurre quindi il consumo di carburante e lo sviluppo di CO2 nei pneumatici ecco recentemente abbiamo fatto dei passi avanti molto importanti perché oltre ad avere un miglioramento della resistenza al rotolamento siamo riusciti anche a migliorare la tenacità di questi prodotti perché normalmente tenacità e miglioramento della resistenza al rotolamento erano due cose separate lavorando sulla microstruttura e sulla dimensionale di queste particelle e sulle membrana interfacciale della nanoparticella è stato possibile diciamo migliorare almeno questo a livello di pilota per ora anche questo tipo di aspetto qui vedete un altro settore completamente diverso che è quello dei blocchi espansi quindi diciamo un possibile utilizzo come sostituto del polistirolo espanso non ovviamente nell'isolamento dove il polistirolo ha una funzione assolutamente fondamentale ma laddove abbiamo un'applicazione diciamo abbastanza complessa per il polistirolo appunto quindi questo è un abbiamo sviluppato un processo che va dalla produzione di pellets a il processo per lo stampaggio e agli stampi quindi è un sistema diciamo completo è una nuova tecnologia e abbiamo realizzato un prototipo piuttosto grande praticamente in scala semi-industriale e è stata fatta la dimostrazione all'Unione Europea con recentemente alla fine di gennaio quindi è veramente una tecnologia molto molto nuova è un sistema di espansione a microonde che permette di avere un processo rapidissimo una bassa densità una tenacità di questi prodotti una buona adesione interfacciale tra le particelle espanse e qui la cosa interessante è capire che anche ho messo questo esempio per porre un aspetto interessante che è quello del problema della competizione con il cibo quindi diciamo che in questa in quest'aula possiamo evitare di utilizzare slogan e di ragionare quindi in questo caso vediamo un'applicazione che riguarda un volume molto piccolo perché c'è una quantità molto piccola il volume è molto grande ma la quantità è piccola infatti il polistirolo espanso per uso package in Europa è circa 300.000 tonnellate e che si confronta con i 3 milioni di tonnellate di EPS per totali per uso per esempio appunto nell'isolamento e a sua volta l'EPS è un valore molto piccolo rispetto al totale delle plastiche se andiamo a guardare la produzione di mais è 700 milioni di tonnellate ma la cosa molto importante è che la produzione di amido da mais è 44 milioni di tonnellate quindi una parte molto piccola rispetto a quella totale del mais ma l'altra cosa importante è che questi 44 milioni di tonnellate sono usati per uso industriali non sono per uso alimentare quindi ecco questo è un aspetto quindi la carta e il cartone sono tra i maggiori utilizzatori di questo settore la farmaceutica è un altro settore importante gli additivi alimentari ma poi per le costruzioni vengono utilizzati gli amidi anche come appretti per gli abiti ecco in questa in queste applicazioni il concetto è che non c'è conflitto con il cibo c'è un uso efficiente dell'amido perché per un chilo di amido si produce un chilo di rebio foam e mentre se utilizziamo processi fermentativi abbiamo un utilizzo diciamo dal 0,6 allo 0,3% di amido la tecnologia di stampaggio è molto efficiente quindi con bassissimo contenuto energetico l'acqua viene utilizzata per l'espansione e l'endolife è la parte più interessante perché nell'endolife noi possiamo utilizzare questo amido per diciamo come amido vergine per il cartone quindi non c'è bisogno di un sistema di riciclo particolare perché questo prodotto può essere utilizzato raccolto insieme al cartone diventa invece un prodotto importantissimo perché ha la stessa funzione dell'amido vergine che la carta utilizza come appretto per la carta la carta lo usa come collante e come trattamento superficiale non solo non c'è rischio in caso di dispersione nell'ambiente perché comunque le componenti sono componenti diciamo ingeribili e non solo ma gli animali non vengono attratti da questi prodotti ma se ingeriscono i prodotti certamente non stanno male hanno c'è un prodotto il prodotto perde di densità in presenza di acqua per tempo lungo non c'è rischio di pollution marina e viene riutilizzabile anche come giocattolo perché diventa un lego dove si può se lasciato in casa può essere riutilizzato ci sono tantissime altre applicazioni nel campo agricolo nel campo delle protesi interne nel corpo applicazioni che conoscete nel settore della raccolta dei rifiuti perché il film respira come la pelle e quindi c'è anche un effetto di diminuzione dei problemi di anaerobiosi e di riduzione del peso del rifiuto che è un costo enorme per il cittadino e un costo enorme quindi per tutta la comunità rilascio controllato di sostanze attive e così via concludo con l'aspetto che mi interessa poi di più tutto questo discorso per dire che siamo partiti dallo sviluppo delle bioplastiche ma poi siamo riusciti a mettere sul mercato dei prodotti in Italia partendo dall'Italia come caso studio e in giro per il mondo ma quello che siamo riusciti a fare è di partendo dagli amidi complessati dai poliesteri che complessano gli amidi a sviluppare una serie di processi di tecnologie integrate a monte fino ad arrivare alla produzione dei monomeri che servono a fare i poliesteri che servono a complessare l'amido e sia a lavorare sulle filiere agricola lavorando pensando a riindustrializzare dei siti deindustrializzati e pensando di lavorare sulla biodiversità locale intorno ai siti deindustrializzati questo è un lavoro che ci ha permesso di collaborare con una serie di realtà la più importante di tutti e sicuramente anzi questa la salto perché qui vedete i siti in cui noi stiamo lavorando con tecnologie diverse e qui vedete la mappa degli impianti che stiamo costruendo i rossi sono impianti che sono già in funzione per gli amidi complessati e i poliesteri i blu sono invece impianti primi al mondo quindi flagship che si stanno il più importante di tutti è certamente matrica la GenVenture con Universalis un investimento di 450 milioni di euro sono sette impianti con tecnologia Novamont sul territorio di Porto Torres con il più vecchio cracker europeo che è stato chiuso con una filiera agricola che sta nascendo intorno a questo impianto qui vedete la costruzione dell'impianto dei primi due impianti che saranno pronti alla fine di quest'anno e che produrranno monomeri per bioplastiche e biolubrificanti e additivi per gomme qui vedete invece le colture sperimentali di Cardo pluriennale senza in zone marginali senza acqua con i risultati del secondo anno ci stanno dando veramente dei risultati molto importanti e la cosa che noi pensiamo dimostra che cosa è possibile fare con la bioeconomia guardando a prodotti complessi come le bioplastiche è che studiando questo tipo di colture come il Cardo utilizziamo l'olio che viene dal seme utilizziamo la parte lignocellulosica per la parte energetica e per zuccheri che possono poi alimentare impianti di fermentazione per esempio per fare l'1-4 butandiolo che faremo invece che stiamo facendo invece nel Veneto e la cosa importante nel pannello abbiamo anche la parte di mangima animale perché è così importante perché la Sardegna e questo dà l'idea di che cos'è la bioeconomia e le bioplastiche questa è la Sardegna e la Sardegna ha un territorio in cui la maggior parte è pascolo ma pascolo occasionale perché non sanno terreno che hanno tolto dalle normali culture perché sono economicamente non sostenibili hanno 3 milioni di ovini importano più di 100.000 tonnellate di farine per animali e quindi farine di soia con questo tipo di processo quindi non solo stiamo costruendo un impianto non solo abbiamo le filiere per le bioplastiche ma abbiamo questa opportunità ed è un'opportunità enorme dal punto di vista della ricerca perché stiamo trattando delle culture delle arido culture pluriennali e la sperimentazione quindi è interessante e abbiamo un progetto nell'ambito del cluster che mette in filiera CNR Enea CRA in uno sforzo enorme insieme a noi per avere un rafforzamento di culture arido culture in un momento come questo in cui i problemi di desertificazione di riduzione dell'acqua eccetera rappresentano un punto importante e diventa una sfida per mettere insieme siti di industrializzati e aree diciamo dal punto di vista agricolo povere come per esempio le aree del sud e questo tipo di modello può essere un modello estremamente interessante quindi la nostra sfida è quella per le bioplastiche è la sfida delle bioreffinerie integrate di terza generazione che vanno a guardare ai prodotti ad alto valore aggiunto come le bioplastiche e in cascata tutte le varie tecnologie collegate che possono riempire tutta la filiera e sono concentrate su dei siti deindustrializzati quindi non cementificazione di altro ma riconversioni energia dagli scarti e tutto questo con investimenti importanti in ricerca nuovi impianti potete capire le enorme possibilità che dallo studio di ogni singolo quadretto di quelli della filiera integrata che abbiamo visto possono venire fuori da questo quindi la nostra sensazione è che stiamo costruendo un tronco da cui poi i rami in modo con la collaborazione di tutti si possono effettivamente costruire chiudo con l'ultima slide ecco è uscito un libro recentemente come Chiotto Club Bioplastics che è in stadio Bioeconomy in Italy è stato presentato al Parlamento Europeo con un grande successo devo dire e presenta i risultati della filiera dell'organico in collegamento con le bioplastiche anche in connessione con gli sviluppi nel campo dello shopper e riporta anche tutti gli studi di enti come vedete l'Istituto Italiano Packaging Plastic Consult Ispra CIC Ispo Conai eccetera studi a livello nazionale quindi questo è un caso studio in cui realtà molto diverse tra di loro hanno collaborato a mettere insieme uno studio per dimostrare che l'Italia in questo settore sta facendo sistema e abbiamo dati di monitoraggio seri che possono convincere anche l'Unione Europea sulla bontà di questo tipo di esperimento concludo con il fatto che l'opportunità delle bioplastiche viene dalla nostra capacità di ridisegno di sistema e quindi dal coraggio che noi riusciamo ad avere nel ridisegnare completamente le applicazioni il modo di produrre le filiere agroindustriali corte sono fondamentali ripensare all'uso e al fine vita dei prodotti estendere la sperimentazione a questi casi studio quindi a intere regioni non soltanto ai laboratori definizione degli standard di qualità molto elevati e questo significa passare da un'economia di prodotto a un'economia di sistema che credo sia la carta vincente per l'Europa vi ringrazio per l'attenzione mi scuso che di